Non si può vivere così, non si può giocare coi sassi, coi pesci, non si può più nuotare, non si può più guardare l'acqua cristallina, fondersi col cielo. Non si può più giocare a palla sulla riva, tutto amore intorno a plastica, plastica quasi viva. Come si può fare? Un tempo eravamo oracoli, oracoli d'amore, ma adesso la terra è satura, è satura di immondizia e male. Dove finiremo in questo substrato sociale? Volevo dirvi andiamo al mare, e invece dico semplicemente andiamo a pregare.